12 agosto 1947 nasce Stefano Benni, giornalista e scrittore. Collaboratore di diverse testate, pubblica nel 1976 il suo primo romanzo, Bar Sport. Autore di romanzi, racconti, raccolte di poesie, di testi teatrali, mette alla berlina, con un uso sapiente della satira, gli aspetti più abberranti della società moderna. Fra i suoi romanzi, Baol, La compagnia dei Celestini e Elianto.